La Regione promuova la pubblicazione e la diffusione della relazione della Commissione Storico-Culturale Italo-Slovena nelle scuole. La richiesta diretta al governatore Fedriga arriva dal consigliere regionale PD slovenska Skupnost Igor Gabrovec, che in una lettera rileva come la celebrazione del giorno del ricordo si trasformi troppo spesso in nuove occasioni per riaccendere polemiche in merito alla travagliata storia che ha segnato le nostre terre nell'ultimo conflitto mondiale nell'immediato dopoguerra. Gabrovec ricorda che nel 1993 è stato avviato un lavoro interdisciplinare per volere dei governi italiano e sloveno con una commissione composta da membri autorevoli. Il lavoro si è concluso con la pubblicazione il 25 luglio 2000 di un documento congiunto che tratta le relazioni italo-slovene dal 1880 al 1956. All'atto della presentazione del documento finale, gli estensori suggerirono tra l'altro ai due governi committenti la pubblicazione del testo nella versione italiana e slovena e la diffusione della relazione nelle scuole secondarie. Il governo sloveno aveva a suo tempo provveduto alla pubblicazione ufficiale della relazione, quello italiano non ancora, scrive l'esponente della slovenska Skupnost, che quindi ripropone l'invito all'amministrazione regionale a riprendere in mano il prezioso lavoro e che sia proprio la regione a farsi promotrice della pubblicazione e della diffusione di questa relazione storica congiunta in tutte le scuole del Friuli Venezia e Giulia.